buonasera siamo da manuela e piercarlo acciaro veronese anche loro hanno usufruito del super bonus 110 e come prevede il super bonus come parte trainante abbiamo sostituito la loro caldaia con una nuova caldaia daikin da 8 kHz con poppa di calore abbiamo installato 19 solar watt 7 kW 87 con 19 ottimizzatori di potenza e inverter huawei da 6 kW monofase in più abbiamo installato una batteria da 30 kW di potenza totale e una colonina di ricarica del white box texler allora vi chiedo se quello che avevamo promesso all'inizio è stato mantenuto sì assolutamente sì siete stati contenti dell'installazione che è stata fatta avete avuto problemi sono stati corretti sull'installazione sono stati corretti veloci e anche cercando di non sporcare al minimo proprio avete già cominciato a usufruire del vostro nuovo impianto volevo sapere se questo vostro nuovo impianto vi ha dato dei vantaggi sì la casa è sempre molto calda poi parte in automatico quando c'è fuori troppo freddo quindi diciamo che questo cambiamento è stato un cambiamento positivo sareste disposti ad affare il nome di bioenergia per fare questi interventi e qualche altro vostro amico in teoria l'ha già fatto questo è vero sì lo consigliamo vivamente noi chiediamo sempre una caluzione del 10 per cento vi è stata restituita la caluzione che abbiamo chiesto all'inizio quando abbiamo fatto il contratto assolutamente sì anche in modo cedere infatti dopo tre giorni avevo tutto sul conto corretti quindi diciamo rispettato quello che erano infatti contrattuali assolutamente corretti se avete ancora bisogno di noi senza problemi che noi siamo sempre disponibili questa è importante è una cosa che ci tengo di più perché perché non sempre arrivo su tutto quindi ho bisogno di aiuti per i primi tempi quindi contatterò spesso la bioenergia noi siamo sempre disponibili vi ringrazio e buona serata